Roberto Cavalli è diventato papà a 82 anni del suo sesto figlio nato dalla relazione con Sandra Nilsson con cui fa coppia da 15 anni il nome scelto è Giorgio l'ho chiamato Giorgio come mio padre che i nazisti fucilarono nella strage di Cavriglia quando avevo quattro anni così spiega Roberto Cavalli a novella 2000 il dolore per la morte del papà nel 44 è stato immenso per lo stilista che ha rivelato non ho parlato fino a 18 anni però la vita è stata generosa con me mi ha ricompensato di tutto a una figura così importante nella sua vita ha voluto rendere omaggio con il nome dato al suo sesto bebè che è nato circa una settimana fa Giorgio è il sesto figlio di Roberto Cavalli il primo della relazione con Sandra Nilsson ma dal primo matrimonio con Silvanella Giannoni durato 10 anni ha avuto Tommaso e Cristiana dalle seconde nozze con la modella austriaca Eva Duringer nel 1990 che poi è diventata anche la sua collaboratrice nella casa di moda sono nati invece Robin, Rachele e Daniele ormai adulti con la nascita del bebè lo stilista si appresta a vivere una seconda giovinezza sul piano personale che fa il paio con la sua rinascita professionale il suo brand ora è sotto la direzione creativa di Fausto Puglisi è tornato sulla cresta dell'onda dopo la fase calante nel 2016 che ebbe un taglio di 200 posti di lavoro Roberto Cavalli e Sandra Nilsson fanno coppia da 15 anni lui 82 anni lei 37 anni ma alla differenza d'età non sembrano sentirla la mia mamma ha iniziato a lavorare molto presto nel campo della moda quando aveva 14 anni un talent scout di un'agenzia di modelle l'ha notata e così è iniziata la sua carriera ha fatto incetta di fasce ai concorsi di bellezza da Miss Salming il suo primo premio a Miss Siren Miss EU Miss World Bikini Model e Miss Hawaiian il titolo più prestigioso arriva nel 2006 quando viene eletta donna più bella di Svezia nel 2008 invece è la playmate del mese sulla rivista playboy nel 2015 come pegno d'amore Roberto Cavalli le ha donato un'isola di storia Rallingen in Svezia del valore di circa 2 milioni di euro ma nessun regalo sarà importante per loro come la nascita del loro piccolo Giorgio